Una donazione, sì una donazione, ma anche un atto di giustizia, un atto di rispetto dei diritti, un atto di rispetto per la dignità del popolo afgano e anche un atto di rispetto per il diritto alla vita e alla sicurezza di dieci persone, di sei donne, due bambini, due uomini che hanno trovato rifugio in Pakistan e che possono raggiungere il nostro paese, la nostra città pronta ad accoglierle. Donare è un atto di giustizia e io sono convinto che Premo saprà rispondere come sta rispondendo per consentire di raccogliere l'appello di molti volti che insieme con me e insieme con altri è fortemente impegnata nel salvare vite umane. Doniamo, doniamo, doniamo.